benvenuti in questo nuovo video si benvenuti in questo nuovo video avvicinati oggi siamo su un gioco che non abbiamo mai giocato e non giocheremo più giocheremo si chiama non si chiama eragon si chiama eragon no si chiama me è scassato la minchia si chiama me è gazzato perchè storta cade ora cade l'uomo e tu non c'è lo fermo io sto più lontano di te allontanti e non fai le righe che bello bellissimo sto panorama un panorama sono i propri ritirati i tuoi sono ti prego ti prego ti prego se non lo ucciso nonostante no c'è una massa stardente così un città io sarai ma non ci sono qua sarò spiegato ma ho il giugno ho il giugno 3 3 vado a santi no a star qualunque cosa sia successo guardate che siamo vivi si e e la casa e il show no non si va così si fa così un'attività la dose la vita è l'attività è un ucciso un modo ove di cuore ecco nessuno vieni vieni mi sono il suo padre è fatto il giusto è vero di questo ciao come scappo un attacco un attacco sto letto dal lato nooo mi ha spaccato la barriera non è che l'ha spaccato lui no 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 che cazzo è un mio suicidio suicidio ma boh non ce la faremo mai no ma magari l'ha preso e anche non è morto ma lo seguono quando le carichi ma lo so ma no no lo seguono ma c'è finito che cazzo aiutami ah poi magari facciamo vedere come scaricare qualcosi che sono io sarà una sorpresa un mini speciale magari visto che uno speciale non lo potremmo più fare visto che ormai siamo quasi arrivati a 15 iscritti ma arriviamo alla speciale a 20 iscritti ok 15 iscritti anche non mi sono fatto niente la madonna si la fa male con lui l'ormale lui l'ormale è stato perito lui l'ormale è stato perito lui l'ormale è stato perito non si ma io non posso usare la magia ma tu non puoi tu sei un brollo ma Bobo non posso neanche non è putile non sono le bloccate il tasto lo sai ma la video non è bloccata qua è assuntato oh ma si ma si ma si ma si ma si ma si così spazio ha pagato il vero che basta mi spiace la mamma per il mio sito col salto guarda perciò bassi palle salto e lo salito non so è stato di camera per cagare aspetta aspetta veloce e' veloce e' veloce spieghi la magia ok vado ma tu vai avanti se io oh non puoi passare il corretto non puoi passare per così y a no y b e' cd ma supporto 9.3 a cioè come cazzo i piccoli abbiamo avuto che sa perché cade perchè 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 si sa cd 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 torturati perché ci siamo complicati da distruggere come le altre casse no 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 per bocca o lo schegno ok vieni no 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 io sbatto ma perchè non ti allontani adesso vieni no no madonna abbiamo messi di caccia faccio come si saltava x e se non c'è non c'è non c'è non c'è nico ah ok ce l'ho fatto no cavolo ma adesso quanti ah y ah oh un partito più difficile no bastardo l'ho aperto io e tu te lo sei preso bastardo sono bastardo ecco la mia eh pumpla no pumpla tutta ti buttò ti buttò guarda qua guarda qua fa così fa così guarda come ti butti no che la magia ma non me ne frega niente io lo do cazzo palaco mi piace io sto morendo deficiente ben di roma ma parto st c'è c'è muovo vieni 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 ma vieni i da vieni si trova lo so non ho prima di fare la sessuale d'arbitro ma io non credo ieri ma effettivo a fare la spazio ancora così parlo di usato ma che c'è un giorno su di ci sono giorni cioè tigolo ovo orale orale scennato davanti in cucina o di quale stata grazie il ecco vado di stare a un titanio legame di qua di qua di qua di guarda un colore che faccio per favore salvo mi ricordo questo azzurro lo prendo io lo prendo io prendilo tu ok mi suicidio ciao c'è qualcuno c'è qualche nemico no non riesco passano le ore il tuo padre ehi non ci dico le palacce palacce serve che culo che hai ancora e sei tu che la tocchi aspetta un passo no ma prenderà me fa la pregh madonna mia è troppo buona sta cosa sa di menta di menta piperina no di quali devo sesso qualcosa no ahahah è stata la voglia io l'acqua se vai nell'acqua la pagina l'acqua l'acqua il 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 silonea l'amont l'u scarica batteria l'u